Tutti conosciamo fin da bambini, fin dal tempi del catechismo, questa sintesi dei comandamenti che Gesù ci dona, amare il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. E poi il secondo è simile a questo, amerai il tuo prossimo come te stesso. In fondo Gesù ci insegna una cosa importante, cioè quello che nella vita bisogna saper fare sintesi. A volte si è dispersi in tante cose, ecco questo comandamento potremmo dire è la sintesi delle sintesi, è la sintesi in cui ruota tutta l'umanità. E c'è un messaggio fondamentale che purtroppo a noi potrebbe sfuggirci perché siamo abituati a sentire questo comandamento, e cioè che chi ama Dio ama il prossimo, e chi ama il prossimo non ama Dio, potremmo dire anche negativo, chi non sa amare Dio non potrà mai saper amare il prossimo, e chi non sa amare il prossimo non può dire di amare Dio. Cioè in fondo qui non si tratta di due amori, ma si tratta dell'unico amore inscindibile. Quante volte si può essere persone religiosissime ma disprezzare gli altri? Quante volte si può essere persone in cui veramente ci si mette a servizio degli altri però quest'amore ha un sapore solo umano, orizzontale, non ha il sapore dell'infinito. E poi c'è un'ultima cosa che Gesù dice, da questo dipende la legge profeti, da questo dipende tutto. Dall'amore a Dio, all'amore al prossimo, dipende la tua vita. Cioè se nella tua vita non c'è questo amore straordinario, addio all'altro, la tua vita diventa insignificante. Che il Signore ci doni veramente di entrare nel mistero grande di quest'amore in cui amare Dio, amare il prossimo, sono le facce dell'unico amore. Buona missio.